Ciao e benvenuto! Stiamo configurando per la prima volta la tua app VR SecureGo Plus. L'app serve per altre cose, per autorizzare transazioni, messaggi di corrispondenza e istruzioni alla banca, sia dal sito o dalla VR Banking App. Per configurare l'app VR SecureGo Plus avrai bisogno del codice di attivazione che hai ricevuto da noi per posta. Puoi scaricare l'app dal Apple Store o dal Google Play Store. Dopo il primo avvio dell'app VR SecureGo Plus dovrai creare un codice personale che hai scelto tu stesso. Questo codice dovrà inserito due volte. Presta attenzione alle standards di sicurezza per il tuo codice. In seguito sarà possibile di sbloccare l'app con la biometria come l'impronto digitale o riconoscimento facciale. Suggestivamente dovrai aggiungere il collegamento bancario. Per farlo scegli collegamento bancario nel menu. Successivamente seleziona scansione del codice di attivamento. Per farlo prendi la lettera con il codice e scannerizza il codice QR. Ora apparirà collegamento bancario aggiunto con successo. L'app sarà pronta per l'uso. Esecuzione di un bonifico con l'app VR Banking.